Buongiorno, oggi affronteremo la potatura invernale del pesco. Il pesco è una drupacea che si pota tagliando il 70% dei rami dell'anno, è una pianta allevata a vaso che ha delle branche primarie come questa che devono avere una cima e tutte le cime di tutte le branche devono essere alla stessa altezza, per cui impostiamo la nostra pianta con la cima, poi togliamo tutti i rami che sono dorsali e a seconda del tipo di ramo utilizziamo uno strumento diverso, per cui il troncarami per rami molto vigorosi e la forbice per rami più sottili. Dopo aver fatto la cima lavoriamo sulle branche laterali, abbiamo detto che si pota per il 70% vuol dire che io sceglierò un ramo fruttifero che sta alla base e ringiovanisco la pianta. A volte bisogna fare degli speroni per garantire la buona produzione per il futuro. Lo speroni è un corto ramo con due gemme che mi favorisce una forte vegetazione. Durante la potatura invernale è fondamentale togliere i frutti rinsecchiti che sono stati abbandonati nell'anno di vegetazione. Questi frutti sono pieni di malattie, per cui l'eliminazione comporta la diminuzione delle malattie per l'anno prossimo. La pianta di pesco rimane in produzione 10-15 anni se viene potata in modo adeguato. A cosa serve la potatura invernale? Serve per controllare vegetazione e produzione. Se io ho una adeguata potatura ottengo dei buoni frutti ogni anno. Qui vediamo una branchetta, definiamo il ramo terminale che avrà una gemma apicale che controlla il flusso della linfa su tutta la branca. Eliminiamo i rami che competono con la cima, togliamo quelli verticali, poi facciamo la potatura al 70% ed eventualmente facciamo uno sperone per garantire una vegetazione forte l'anno successivo. Questa è una branchetta fruttifera di pesco. Vediamo sia brindilli che rami misti. Il brindillo è un piccolo ramo con gemma apicale a legno e laterale a fiore. Il ramo misto ha una gemma apicale a legno e gemme a legno e gemme a fiore lateralmente. È sicuramente il ramo migliore perché ha tante foglie per dar da mangiare a tutti i frutti. Per cui nella scelta del ramo io tenderò a scegliere questi rami misti. Per cui nella potatura al 70% farò così, succhione e ramo mal posizionato. Siamo alla conclusione. Abbiamo potato la pianta di pesco. È importante mantenere un giusto equilibrio vegetazione e riproduzione. Usare gli strumenti adeguati. Questo ci permette di ottenere buoni frutti ed una vita lunga della pianta. Frutti adeguati, frutti grossi e frutti saporiti. Arrivederci. Arrivederci.